Quando si parla di sci alpino femminile a Bergamo il pensiero non può che andare al paese di Selvino dove è nata Lara Magoni, ospite quest'oggi a Zona Mista Magazine al Teatro Greppi in centro a Bergamo e a cui do il benvenuto. Ciao Lara. Grazie Federica per questa grande opportunità. Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Un curriculum di tutto rispetto. Campionessa di slalom, argento ai mondiali di Sester nel 97, una vittoria e quattro podi in Coppa del Mondo, due titoli italiani, prima italiana vince la Coppa d'Europa e atleta di merito per quanto riguarda la valanga rosa negli anni 90 e ad oggi sottosegretario con delega sport e giovani in Regione Lombardia. Sì, mi sono divertita molto. Mentre tu lo raccontavi immaginavo tutto il percorso della mia vita che è stato veramente straordinario nel senso che mi sono divertita tanto, lo sport per me è stata la mia vita, è la mia vita e sarà sempre la mia vita. Hai iniziato prestissimo e hai raccontato che appunto il tuo idolo, il tuo mito, era Paola Magoni, anche lei di Selvino, campionessa olimpica, medaglia d'oro nel 94 a Sarajevo. E ti chiedo qual è stato quindi poi il tuo rapporto con lo sport che appunto ti ha accompagnato e ancora ti accompagna. Bene, innanzitutto parte tutto dal mio padre che era maestro di sci. Nasco a Selvino e all'epoca, 50 anni fa, per togliermi dai piedi, che davo fastidio secondo me in hotel dei miei genitori, mi mandavano nel prato con papà e da lì partono i primi passi sugli sci e poi mi piaceva tanto. E attraverso appunto l'insegnamento di mio padre, poi la passione che era cresciuta in me e poi anche diciamo nel DNA questa voglia, questa grinta, questa... dico che ognuno di noi ha un talento dentro di sé. Il mio talento all'epoca era di questa bambina che voleva essere vincente. La bambina è cresciuta togliendosi tante soddisfazioni, passando anche attraverso momenti più difficili. E naturalmente, come hai anticipato tu, Paola Magoni per me è stata senza dubbio quella figura importante nel mio percorso sportivo, perché era di Selvino anche lei, è stata la prima donna a vincere le Olimpiade, gli sport invernali e le Olimpiade. Quindi il suo oro a Sarajevo, 84, rimane nella storia. E poi hai avuto il tuo momento clou a livello agonistico al fianco di Deboa Compagnoni. Come ricordi quegli anni? Allora, sicuramente sono gli anni più belli della mia vita, 16 anni nazionali, 12 dei quali affiancando Compagnoni. Deboa Compagnoni, per chi non lo sapesse, è ancora oggi nella storia degli sport invernali, perché è stata l'unica donna a vincere tre Oro Olimpici in tre edizioni differenti. Quindi diciamo che al mio fianco è sempre lottato a fianco di una leader. Infatti ho sempre detto e dirò sempre che io ho fatto la campionessa, ma lei era il leader. In tutti gli sport ci sono coloro che, come me, raggiungono grandi risultati, assolutamente di rilievo, ma poi c'è quel leader che fa la differenza, quel leader che non manca mai a un evento, a quell'acquedizione straordinaria che lo rende tale. E come dicevi all'inizio, mi sembra importante anche un bel messaggio da trasmettere, il rapporto con i tuoi genitori, che sono i gestori dell'albergo Marcellino, all'ingresso di Selvino, e ti chiedo quindi un po' di raccontare anche come loro ti hanno affiancato, perché hai raccontato che facevano un po' a gara per seguirti sulle piste, e peraltro quando hai vinto l'argento, tua mamma era lì al traguardo pronta ad accoglierti. Sì. Vabbè, penso che dietro ogni campione, dietro ogni figlio o figlia, che in un certo qual modo, anche tu Federica, con tuo padre genio, dietro a un figlio che cresce, una figlia che cresce, inevitabilmente ci deve essere una famiglia, un padre, una madre o entrambi, che ti seguono e ti fanno diventare tale. Anche perché soprattutto quando una persona cresce e va, accede a certi percorsi molto particolari, le uniche persone di cui puoi fidarti ciecamente sono i genitori, nessun altro, perché anche nello sport, nella vita, nello spettacolo, in ogni dove io credo fondamentalmente che siano le uniche persone che ti possano recuperare, prendere per mano e farti rialzare. Purtroppo nel resto non sempre puoi contarci. Sì, l'allenatore che ti vuole bene, io l'ho avuto per fortuna, ma sono stata fortunata perché talvolta anche gli allenatori, nel momento in cui cadi per terra, sono magari quelli che ti abbandonano e quindi questo non va bene assolutamente. Quindi ribadisco che sia fondamentale avere una famiglia al proprio fianco. Io l'ho avuta, i miei genitori naturalmente tutti lo sanno che sono mancati da tanto tempo, mia mamma ha i 22 anni che è mancata, mio padre a breve saranno 7 anni che è mancato e quindi diciamo che sono delle perdite importanti e oggi che sono una donna adulta comunque continuo a portare, a ricordare dentro di me l'amore che ho ricevuto da loro. Infatti quando spesso mi sento dire basta pensare al passato, pensa al presente, senza quel passato io non vivrei al presente. Quindi per me tutti i giorni fanno parte della mia vita, come oggi che ne sto parlando e lo farò per sempre. Anche perché la persona che sei oggi lo devi anche al tuo passato, al tuo storico che ti ha portato appunto qui. Sì, esatto. E secondo me è un'altra cosa importante che non bisogna mai dimenticare nel percorso di una vita, coloro che ti hanno dato l'opportunità di diventare la donna o l'uomo che sei e quindi questo grazie infinito rimarrà per me. Poi naturalmente non solo loro, sono stata anche fortunata perché fin da bambina ho trovato dirigenti sportivi di un certo spessore che mi hanno affiancata e mi hanno fatta crescere e quindi anche a loro devo molto. E quindi è bello anche pensare a loro, ricordarli. Alcuni dolori ho persi perché per ovvio motivo, io sono adulta e loro sono più adulti di me e quindi mi hanno lasciata per forza. E come dicevi anche poco fa, hai dovuto affrontare diverse sfide nel corso della tua vita e poi anche l'ultimo di vari infortuni che hai avuto ti ha portato a lasciare la tua carriera agonistica e tra l'altro quando hai lasciato tu erotava il mondo nello slalom e hai riferito di aver lasciato per una questione di rispetto nei confronti degli sponsor. Allora, talvolta lasciare il mondo che tu hai amato, che ti ha dato tanto, ti ha resa vincente, dove tu hai vissuto anche le sconfitte più amare, diventa difficile perché è più forte di te quel legame, nel mio caso con quel cancelletto che si apriva, le urla del pubblico, la televisione, essere protagonista. Però poi devi darci un taglio, devi avere quel coraggio di dire basta, il mio percorso finisce qua. E secondo me è pessimo quando un atleta lascia il suo percorso sportivo in modo, come si può dire, sempre al limite, sempre, non al limite, sempre ultimo in classifica. Io ho lasciato quando erotava il mondo, avevo anche degli sponsor molto importanti, a livello economico avrei preso ancora tanti soldi quell'anno, bisogna ricordarlo. Però i miei genitori erano un po' arrabbiati in realtà quando ho detto io voglio smettere di gareggiare perché dicevano ma no, ma ci ne è ancora. E io invece ho detto no, io non riesco più. Io guardavo quel cancelletto e quella sfida, quella voglia di vincere era scomparsa dentro di me e lì ho chiamato gli sponsor principali, io ho detto che rinunciavo al contratto perché li avrei presi in giro, perché dentro di me si era spenta quella luce, quella volontà, quella visione, quella voglia di vincere e non c'era più. e quindi lasciando così lo sport ha fatto sì che oggi io e delle persone che mi hanno conosciuta si ricordano che l'armagonia ha vinto, non si ricordano che l'armagonia ha lasciato perché ho lasciato in un momento in cui ero forte, prima di andare alla deriva, prima di trascinarmi e di essere una perdente. Ho lasciato in un momento in cui magari se mi fosse ancora riconcentrata avrei potuto magari avere qualche soddisfazione, ma era difficile. Invece lasciando così, e questo è un monito che vorrei dare ai miei amici, colleghi, colleghe che fanno sport, il coraggio di lasciare, prima che quegli sci vada di traverso. Arrivare a quella consapevolezza. Sì, assolutamente. Perché poi si apre un mondo dove di grandi opportunità che io ho avuto e che mi ha portato ad essere qua oggi in questo ruolo. E appunto hai un ruolo politico importante che richiede anche molte presenze e molto impegno, ma nonostante questo continui a seguire con impegno e passione l'albergo di famiglia che ha ospitato grandi del mondo dello scio. Sì, perché comunque ho 54 anni e da quell'albergo sono partita e in quell'albergo ritrovo la mia serenità, il mio equilibrio, nonostante appunto tutti quegli impegni che talvolta mi buttano fuori regime, perdo un po' l'equilibrio, mi sembra un po' anche di impazzire. Tornare a casa e servire a tavola per me è un regalo, è un regalo perché lo faccio pensando ai miei genitori che da lì hanno dato l'opportunità a me di volare nel mondo e oggi a fianco mia sorella Barbara che è fissa naturalmente nella gestione del locale e dove io sabato, domenica, i festivi, tutti i festivi e l'estate la passo al suo fianco perché mi piace. E hai affermato che la Costituzione dovrebbe riconoscere lo sport non solo come un valore ma anzitutto come un diritto. Ti chiedo come raggiungere questo obiettivo? Allora, sicuramente per gli sportivi il 20 settembre 2023 rimarrà nella storia perché riconoscere lo sport all'interno della Costituzione, l'articolo 33, è stato comunque un evento che per noi tutti è stato accolto con grande soddisfazione e gioia. Però, quel però rimane, quel però doveva essere non il valore perché il valore dello sport lo riconosciamo tutti quotidianamente ma secondo me la valenza è superiore era il diritto allo sport perché lo sport deve essere il diritto come la cultura la cultura è anche cultura sportiva lo sport ancora oggi è l'unico strumento universale capace di superare ogni tipo di ostacolo è capace di includere, di aggregare e soprattutto lo sport è ribadisco quel mezzo che utilizziamo ogni qualvolta vediamo le persone in difficoltà o che devono rinascere attraverso lo sport lo possiamo fare e quindi quel diritto è mancato quel diritto non c'è quel diritto che oggi preclude il fatto che i nostri figli a scuola non possono goder di questo dito facendo sport ma di opportunità oppure comunque a pagamento e il problema è enorme perché non tutte le famiglie possono godere di quelle risorse per dare l'opportunità ai figli non di fare i campioni ma di praticare sport tant'è che noi in Regione Lombardia abbiamo messo in campo la dotte sport che sono 2 milioni di euro che vogliono dare questo diciamo ristoro alle famiglie con un ise basso per poter iscrivere i propri figli ai percorsi sportivi è ancora poco è troppo poco ci vorrebbe molto di più perché quando ero bambina io lo sport era un diritto e in quel diritto io sono cresciuta e ho potuto diventare una campionessa e per concludere Lara, occhi puntati al futuro 2026 appuntamento con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina cosa rappresenta per te questa quarta Olimpiade? Beh, questa Olimpiade sicuramente è una grande opportunità per tutto il territorio l'Olimpiade dovrà lasciare un'eredità ai nostri figli ma vorrei dirti che io spero tanto che anche ragazze come te possano cogliere con questo evento olimpico un'opportunità lavorativa perché il mondo verrà a Milano accoglierà l'Olimpiade Milano e quindi vorrei che ragazze come te ragazzi non vadano all'estero ma accolgano qui da noi a Milano in Lombardia questa grande Olimpiade che accoglierà tutti i paesi del mondo quindi l'opportunità vostra di entrare in quel mondo che è a casa nostra e chissà che magari si aprono opportunità o delle sfide nuove anche per voi io ci credo e spero che sappiate cogliere questa quest'Olimpiade perché l'Olimpiade è qualcosa di importante lo spirito olimpico il fatto che tutte le nazioni siano presenti a Milano è indescrivibile non riuscirei a spiegarlo in una trasmissione con te vivetela e accogliamola grazie Lara per essere stata con noi per l'augurio con cui ci congediamo e anche per le parole che hai detto e l'importante messaggio che hai trasmesso in particolar modo ai giovani è stato per me un grande onore essere a tuo fianco Federica e complimenti per il lavoro straordinario che stai facendo tu con la tua troupe grazie davvero grazie